Mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva, trasversalmente ai partiti nel centrodestra, nel centrosinistra, nel Movimento 5 Stelle. Punto molto, ho sempre puntato sulla viabilità, ma viabilità vuol dire anche sicurezza per i pedoni e per gli automobilisti, cosa che in tante zone della città non esiste. Penso, siamo qui a Lama, precisamente in Contrada San Domenico, abbiamo un manto stradale dissestato, pericolosissimo, lo guardate, in cui ci sono avvallamenti, dune e cunette e si verificano con frequenza davvero impressionante incidenti su incidenti su incidenti, perché chiaramente il manto stradale è dissestato e la sicurezza, proprio la stabilità delle auto viene meno. Non parliamo poi di ciò che accade con la pioggia e quindi la situazione si peggiora, si incancrenisce ancora di più. Guardate qui, oltre proprio la struttura della strada con delle curve a gomito che già di per sé sono pericolosissime, ma immaginate di unire le curve a gomito a un saliscendi proprio del manto stradale, dell'asfalto, buche anche che ci sono lungo la strada e purtroppo la frittata è fatta. Tanti anni, tante amministrazioni si sono succedute, promesse, 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 di mettere in sicurezza la zona. Dall'epoca di Bello, passando a Stefano e ora siamo arrivati a Melucci. Melucci, quello che dice di essere il sindaco della rinascita, i cartelloni, i manifesti parlano di un'amministrazione, Melucci, che afferma che stiamo seminando la rinascita. Evidentemente l'amministrazione Melucci e l'ex sindaco Melucci mentono sapendo di mentire, perché parlare di rinascita in una città abbandonata penso che sia davvero uno schiaffo al cittadino. Andatelo a dire agli abitanti della contrada San Domenico, andate a parlare di rinascita agli abitanti di San Domenico, penso che salteranno dalla sedia per la rabbia. Guardate qui, allora nessuno ha la bacchetta magica, però scusate i lavori in quattro anni e mezzo, questa situazione che pure era stata segnalata in campagna elettorale, c'erano stati degli impegni anche dei vari candidati consiglieri ed eletti consiglieri di questa borgata per intervenire, alla fine, come si suol dire, le promesse volano, volano come il vento. E allora mi rivolgo ai cittadini, agli elettori di Taranto, ora c'è una proposta seria, completamente diversa, la mia, da candidato sindaco Luigi Abbate, trasversale ai partiti, per dare quelle risposte, per far sì che quelle denunce che io ho fatto e faccio da tanti anni come giornalista possano avere un seguito, un seguito a Palazzo di Città, avere un sindaco che conosce a menadito le varie criticità del territorio e proprio per averle osservate, studiate ed essere intervenuto mediaticamente, giornalisticamente, ora avrò una marcia in più da amministratore. Per questo chiedo il consenso, per le mie battaglie, innanzitutto sull'ambiente, innanzitutto sulla vivibilità che ho fatto in questi anni. Non ho mai tradito nessuno, ho dato sempre voce a chi non ha voce, lo farò anche da primo cittadino.